Scarsella e poltronetti del Noname Nettuno, innanzitutto presentatemi il compagno con tre aggettivi e motivateli. Poi non inizia tu. Tre aggettivi. Cazzuto. Grosso. Aggetti motivati. Cazzuto. Grosso. Ma c'è una domanda di riserva che l'hai? No. Cazzuto. Grosso, dai, inventate l'altro tutto. No, io ho aggettivi simpatico, non so, non ho idea. Bocciati sugli aggettivi. Adesso dopo la partita non escono gli aggettivi. Qualcato è difficile perché sono abbastanza nervoso. Bocciati sugli aggettivi. Allora avete detto che siete nervosi. Io ora vi dico degli aggettivi. Voi mi dite da 1 a 10 il compagno quant'è, per esempio, per maloso. Pottonetti. Quanto è per maloso? Pottonetti, da 1 a 10. 6, 6 e mezzo. Anch'io, lo stesso voto. Piacione. Inizio io. 10, lui 10. Pure 8, 8 e mezzo, dai 8. Simpatico. Lui di più, dai. 8, 9. Incazzoso. Eh, qua è una bella lotta. Facendo questo sport, diciamo che ti incazzi abbastanza facilmente. Più alla moda. Più alla moda. Lui. Lui. 10, lui 10, io 4. No, 4 no. 4 meno meno. Lui deve darle il voto. 5, 5, 5 e più. Allora adesso vi dico dei soggetti e voi fate pollice su o pollice giù. Giovanotti. Giovanotti. I Queen. Su. Gli U2. Su. Coldplay. Su. Anastasia. Su. Madonna. Su. Musica sudamericana e caraibica. Su. Su. Serata in discoteca. Due su per su. Giù. Giù. Non mi credete. Mojito. Giù. Non mi piace. Non piace manca a me. E il cocktail che vi piace di più? Necroni. Moscov. Quindi non andate in discoteca. Serata tipo. Serata tipo. Tutte le serate normali che esistono. Cioè. La donna al mio fianco. La mia ragazza. No perché. Ritorniamo a pollice su. Concerti live. Sì. Champions League o partite allo stadio? Partite allo stadio. Allora siete tifosi anche di un'altra squadra? Oltre che vabbè del no name per il big soccer. Roma. E il big soccer? No. Di un'altra squadra oltre a giocare al big soccer. Tifosi di calcio? La Roma. Benissimo. Cosa vi augurate per la prossima stagione? Le fa un po' meglio. Sì. Vabbè. Sì. Vabbè. Il mio rapchiazzamento di quest'anno. Giocatore di calcio preferito? E perché? Capitano. Capitano perché rappresenta Roma. Io dico Ronaldo perché era andata perfetta. Dovessi rubare un qualcosa al compagno? Cosa gli rubereste e perché? Abbotta. Il tiro. Forse un po' più le sue. Il difetto invece che al compagno. Difetto, difetto. S'addormeta un po', dai. Forse il suo è che al primo errore perde la testa. Siete vanitosi? Mi. Dipende. Forse. Alla moda abbiamo detto già di no. Vogliamo che portate in vacanza il compagno. Quale città e perché? Perchè tutto è concesso là. Ah ecco. No, io sono desiderio andare a Baruna in Albania. Perché là c'è stata qui. Se dovete portare a cena a casa vostra il compagno, sapete cucinare? Sessi cosa? Pizza. A portare via. Pizza e patatine. Se invece dovete portare una donna dello spettacolo, non asciugherlo, una donna che vi piace tantissimo a cena, chi portereste e perché? Bella domanda. Ce ne stanno tante. Guarda, io ti dico fila di plasica. Perché? Perché secondo me è una donna stupenda. C'è, stanno tante belle del mondo dello spettacolo, però non ho, cioè, non c'è una conferenza, non so tanto puntato su queste cose. Allora, siete bravi a cantare? Assolutamente no. Benissimo, c'è la prova canora, quindi pensate a una canzone che dovete cantare o insieme o da solo. Non ci si può a recitare, coltronetto. Canta una canzone e scarsella la per tutte e due. Vai, decimi una canzone. Una canzone che dice per te. Arriva in tanto, un cavettone. Grazie, grazie. Un cavettone. No, una canzone. Grazie Roma, che ci fai vivere e sentire ancora. Grazie Roma. Così l'intervista si chiude in mal modo. No, scherziamo. Fateli in bocca al lupo al compagno per la stagione che magari farà nel calcio a undici. Voi giocate, giusto? Sì. Io faccio in bocca al lupo a Daniele e spero che quest'anno abbia un anno di crescita e che possa raggiungere sia obiettivi personali che di squadra. In bocca al lupo vorrei, in bocca al lupo, in bocca al lupo, gli stessi pensieri. Comunque siamo ragazzi che ci ammettiamo tutta e chiediamo di questo. Un saluto in romano ai tifosi del beach soccer. Ciao a tutti, regà. Grazie. Grazie.